Si chiama Alessandra, ha otto anni ed è di ribera, è lei la prima bambina che questa mattina si è sottoposta alla vaccinazione anti-covid all'ospedale Fratelli Parlapiano nel primo giorno di somministrazione del vaccino ai bambini di età compresa tra 5 ed 11 anni. Parte così la campagna di vaccinazione pediatrica in un momento in cui il virus circola maggiormente proprio tra i più piccoli. È un dovere civile, è un dovere nostro e anche di tutta la comunità coprirsi da questa incombenza, da questa pandemia che ci sta colpendo e che sta ovviamente fermando le attività economiche, le attività culturali, le scuole e quindi è un dovere necessario. Una scelta che è stata accompagnata dalla paura o dalla speranza? Le scelte sono sempre difficili, difficilissime, però è chiaro che è meglio il vaccino e accettare i rischi del vaccino piuttosto che accettare i rischi di una malattia che può essere anche mortale. All'interno del lab vaccinale di Ribera è stato creato un ambulatorio ad hoc per i bambini con tanto di albero di Natale donato da Vivai Natura Verde, operatori sanitari vestiti da Babbo Natale, poster, disegni dei cartoni animati, cioccolatini e succhi di frutta nell'ambito di un allestimento che è stato curato dal personale amministrativo del lab di Ribera. L'ambiente è quello proprio adatto ai bambini con disegni di cartoni animati ed altre cose che possono distrarre quantomeno il bambino dal momento della vaccinazione. C'è sempre da parte dei bambini, me lo ricordo io quando ero piccolo, che avevo paura della puntura, quindi non è che sono cambiati i tempi. Questo è per dare una maggiore accoglienza sia ai bambini ma anche ai genitori. E' chiaro che ci sarà il pediatra e quindi anche questo è un ulteriore supporto perché i pediatri del distretto sono quelli che hanno in cura questi bambini, quindi li conoscono bene, sono loro assistiti, quindi c'è tutto un discorso che in gergo si chiama di complianze per favorire quanto più possibile l'accoglienza e che tutto vada bene. Quante prenotazioni avete avuto finora? Le prenotazioni non sono molte, anzi faccio un appello perché si prenotino i genitori e soprattutto ci credono nel progetto vaccinale. Tenga presente che ogni flacone contiene 10 dosi, quindi quando noi abbiamo 6-7 prenotazioni dovremmo sprecare altre 3-4 dosi. Oggi in un momento in cui i paesi africani non hanno il vaccino mi sembra un delitto da parte diciamo di uno spreco, ma non uno spreco perché diciamo stiamo buttando il vaccino, ma uno spreco perché forse alcuni non hanno compreso quanto è importante la vaccinazione anche in età pediatrica. Ormai è chiaro, lo dicono tutti i media, i giornali, che l'infezione da Covid nei bambini si è fatta molto avanti. Fortunatamente non dà gli effetti, o meglio, dà raramente gli effetti che dà negli adulti, gli effetti di malattia grave, però questo non esclude che non ci siano. C'è uno studio in cui 6 su 1000 bambini vengono ricoverati e 1,4 su 10.000 finiscono in terapia intensiva, quindi anche per loro c'è il rischio di malattia severa. All'inaugurazione del lab vaccinale per i bambini ha preso parte questa mattina anche il sindaco Matteo Ruvolo. Quello di oggi, l'inaugurazione del lab vaccinale per i bambini è una cosa importante perché nelle ultime due settimane a Ribera abbiamo avuto un'impennata di casi e il 30% dei casi di infezioni registrati sono proprio bambini in età scolare. Quindi i piccoli, ingenuamente e inconsapevolmente, poi diventano veicolo di trasmissione in famiglia, quindi per i nonni, per i genitori e questo ha fatto sì che sono sorti numerosi cluster familiari nelle ultime due o tre settimane a Ribera. Quindi è importante che si abbia la consapevolezza che i genitori e tutti gli adulti abbiamo la consapevolezza che ricorrere al vaccino è una cosa fondamentale, l'unica arma che abbiamo contro questo virus e soltanto se si raggiungerà quella famosa immunità di greggio potremmo dire che avremmo messo alle nostre spalle questa maledetta esperienza della pandemia da Covid-19. La vaccinazione anti-Covid per i bambini di età compresa tra 5 ed 11 anni questa mattina è scattata in tutti e 5 i presidi ospedalieri della provincia, Agrigento, Licata, Ribera, Sciacca e Canicattì. Per la settimana in corso le somministrazioni saranno effettuate solo oggi e domani dalle 9 alle 13 ad esclusione quindi delle giornate di sabato e domenica, mentre a partire da lunedì prossimo 20 dicembre avverranno tutti i giorni, compresi i festivi dalle 9 alle 14 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano. La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa predisposta da poste italiane oppure attraverso il sito Sicilia Coronavirus, da dove è possibile scaricare anche la modulistica relativa alla vaccinazione. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti e sarà necessaria la presenza di un genitore o tutore legale il quale dovrà dichiarare di avere informato anche l'altro genitore. Grazie. 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 Grazie.